Lo stendino Bama è leggero, robusto, dotato di speciale bloccaggio antiribaltamento. Maggiore capienza con 9 fili e 2 ganci a scomparsa per le grucce. Chi meglio stende, meno stira. Questo è il segreto di Panni, lo stendino innovativo, funzionale, stabile. Panni non teme le folate di vento perché progettato per non cadere mai e anche chiuso, occupa poco spazio e sta in piedi da solo. Con Panni, stendi senza affanni. Grazie. 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 Grazie.